Benvenuti a questo secondo livello di DinoStorm Ma voi direte adesso, ma un momento, frena un attimo, ma Ehm, da qua, ma voi vi chiederete adesso Intanto ingrandiamo, ho sbagliato stasto Ehm, dov'è la mappa? Mappa? Aspetta, ah sì, ero qua, apre Ah no, ma sono tornato nella, nel canone di, vabbè Allora, in pratica, ehm Il primo livello è, cioè, ho iniziato questo gioco con Giorgio Cappelli di Paglia Per chi non ha visto il video metterò il link in descrizione E ho deciso che, trovato questo gioco, continuerò questo, ehm, farò una saga su questo gioco in, ehm, a parte, cioè senza Giorgio Cappelli di Paglia Temo voi Ah, giusto, posso diminuire Perché come vedete, perché come vedete, in pratica ho Sono andato in un'altra mappa rispetto a quella in cui ho giocato con Giorgio Cappelli di Paglia Ah, comunque, ehm, vi dico subito che, a mio parere, non, ehm, gli altri episodi non saranno belli come il primo Visto che, ehm, ci sarò soltanto io O meglio, se volete entrare nella partita potete farlo Però vedo che, qua, non è che ci sia molto Cioè, sono andato in una, in una zona stretta Non è che sono andato, tipo, in un altro mondo, eccetera Dino Bill Ah, zona sicura pv più non consentito Salve ragazzi Allora Cacchio No, però voglio Vabbè Allora No, però voglio Cos'è che vuoi Parla Ok E adesso cosa che devo fare E' tutto qua Dai Cos'è che fai? No, aspetta, fermo Ah, ne manca Ah, ne manca Ok 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 vado la visto che non ci sono andato No che ci sono andato ah ecco vabbè adesso togliamo la mappa visto che non dovrebbe servire però vorrei anche affrontare anche un altro giocatore visto che prima ho letto che stai lasciando Dinoville ha pvp consentito ma ma tanto sarò io aprire la gente oh cacchio ma tanto sarò io ad aprire le ferite del culo col manganello tutti su uno però sembra amichevole questo qua un terezze ok queste cosa servono ah no 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 ma raccontami ancora che questi cerchi blu non servono a niente no 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 ma raccontami ancora ok possiamo anche andare ah si respawnano e il prontosauro e il prontosauro ok 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 Ok, preparati a morire, oppure ti aprirò le ferite del culo col manganello Ok, ragazzi Ok, mi è colto di sorpresa ma... ma adesso poi che... Ah ma mi indica dove è! Mi ha ucciso così mi posso vendicare Ok, adesso sarò pronto a farti... Ah devo... eccoti Ma questo mi fa il culo... Vabbè... Questa volta l'hai vinta te... ma... mi vendicherò... Ah se mi vendicherò... Ok, allinea... mi devo allenare... Un attimo posso usare una mossa... Un attimo... 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 Grazie. Ah, ci sono dei veloci raptor qua. Ah, no! Ah, no! Ah, non si può bere. Ah, ranger. Mi posso attaccare? Ah, no! Cacchio, cos'è che li ha sparato contro? Ah, ma cos'è l'offensivo? Sì, ma come faccio? Non so se mi fanno il mazzo, se provo a andare da... Grazie, amico! Matteo, cani sciolti. Ciao, yes, pors! C'è l'offensivo. Ciao, Matteo! Tu mi conosci? Tu mi conosci su YouTube? E' piacere il mio canale. 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 E' piacere i coni. E' piacere il mio canale. ciao youtube non so se si legge ma comunque matteo matteo ha detto uovo e poi ha detto ciao youtube ok allora c'è lui mi ha saltato io ho detto se mi conosceva su youtube e io ho risposto di nuovo eh comunque vediamo profilo eh vediamo già fatto amicizzo con sto qua dai su ok ok no 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 ma racconta però dovrò fare un pvp un pvp cioè dovrò scontrarmi con un altro giocatore ma no cacchio ma io ho paura vediamo no 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 raccogli che bello cacchio che che no oh cacchio vai lo vinta io oh cacchio oh cacchio o 25 minuti ok e carichiamoci ah ma tanto sono già pieno dai su dai su dai su wait erbe commestibili ma vai a cui paese ma vai a cui paese ok 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 Ok, raccogli, raccogli. Ah, ricerca obiettivo, seguo questa missione, seguo loro in più, vi troverò banditi e sapete che fine farete. Ok, io sono pronto psicologicamente ad ammazzare. Va bene. Cacchio, pensavo di prenderlo di sorpresa. Cacchio, muori, muori. Vediamo che è più forte. Oh, grazie. Grazie, grazie, grazie. Cacchio. Escapa, escapa. Ok, va bene. Ok. Allora... Attacco. No, cosa succede? Che cacchio succede Cacchio scusa che è che ho attaccato? Attacca! Ok Perché Perché Ma finisce oltre il velo di Dino Storm A prossima